Dal 1 gennaio 2022 parte l'assegno unico e universale. È un assegno unico e stabile, che sostituisce e semplifica molte delle agevolazioni per i figli a carico. È universale perché tutti ne hanno diritto, con un importo base mensile per ogni figlio, che va da 50 a 175 euro, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. Chiedi la certificazione ISEE e fai la domanda per riceverlo ogni mese da marzo. Scopri come su famiglia.governo.it Chiedi l'assegno per i tuoi figli e attiva il nostro futuro.